La seconda edizione del Master in Smart Product Design 4.0, promossa dal Politecnico di Torino in collaborazione con Olivetti, vuole formare ingegneri da diversi classi di laurea sui temi di AI, intelligenza artificiale, Internet of Things, Cloud Computing, ambiti dove Olivetti sta sviluppando soluzioni innovative in diversi domini applicativi e industriali. È un Master che forma ai mestieri del futuro, mestieri che richiedono una iper-specializzazione e quindi un Master. È una grande opportunità di sviluppo del capitale umano e di occupabilità per giovani talenti in un territorio caratterizzato da una grande tradizione e da un heritage sull'informatica come Punto Andrea e il canamese.